Monasterace prosegue nei programmi di accoglienza e nella fattispecie nel piano Sprarre del 2018-2020, comune ionico che ospiterà in tutto 25 ragazze extracomunitari con il piano Sprarre, la cui convenzione scaduta nel 2017, è stata rinnovata come voluta dalla prefettura di Reggio Calabria per il prossimo triennio. Accoglienza di secondo livello quindi con relativo Sprarre per i minori non accompagnati per quanto riguarda il centro di accoglienza Giussappe Lavorate di Monasterace, sito incontrato a Campomarzo. L'obiettivo del centro, sito nell'alto Ionio Regino, è che nel corso dei prossimi mesi si avvia un percorso di integrazione concreto, fatto sia dal rispetto assoluto delle tradizioni di ogni popolo, ma anche di una vera e propria unione e condivisione di valori fondamentali per i processi di accoglienza. A dirigere i piani di accoglienza la cooperativa sociale Goel, per l'appunto i piani di accoglienza in atto prevedono altresì che altri 20 ragazzi siano ospitati nel centro di prima accoglienza denominato Casa Gialla a Monasterace Centro.